Il rapporto è un rapporto che è agli inizi, potrebbe essere molto migliore, ma questo per responsabilità dell'amministrazione pubblica, nel senso che l'amministrazione pubblica ancora non ha capito l'importanza, non l'ha capita fino in fondo, l'importanza e il ruolo dei comunicatori. La comunicazione è tutta perché se uno fa le cose, parliamo in modo semplice, e le persone non lo sanno, è come se quelle cose non le avesse fatte. E non si può pretendere che quelle cose vengano conosciute solo all'ultimo, quando chi le ha fatte ha bisogno di farle conoscere, se è un politico perché è durante in campagna elettorale. La informazione è qualcosa che si articola nel tempo, che si crea giorno dopo giorno e che si deve sedimentare nella memoria di coloro che raccolgono quel messaggio e ascoltano quella comunicazione. Non si fa tutta in un giorno e non può essere fatta da persone improvvisate. Lei mi chiedeva il significato di questa giornata, è la giornata che apre un ciclo di formazione di persone che saranno capaci di farlo tutti i giorni. Io mi auguro che il mondo della pubblica amministrazione capisca questo messaggio e accolga nel mondo del lavoro subito, non fra anni e anni, subito perché ne ha necessità, perché questo mondo se non riesce a comunicare, il mondo di chi deve dare lavoro agli informatori della pubblica informazione, se non riesce a comunicare è come se facesse le cose, inutilmente.